Regione Toscana continua a dimostrare interesse ai percorsi di istruzione tecnica superiore. Infatti, per l'anno 2021-2022 ha investito 3.300.000 euro, grazie ai quali verranno ampliati il numero dei percorsi e quello dei relativi posti disponibili, tre in più rispetto a quelli attivati l'anno scorso. I percorsi ITS, che verranno avviati entro il 30 ottobre prossimo, sono rivolti a giovani fino a 29 anni e rappresentano il segmento di formazione terziaria, professionalizzante e non accademico. Vengono progettati per formare tecnici altamente specializzati in settori strategici della produzione toscana, dal turismo alla moda, alla farmaceutica alla meccanica, al settore agroalimentare a quello logistico-nautico, fino a quello energetico. Con la decisione presa insieme alla Giunta, spiega l'assessore all'istruzione, formazione e lavoro della Regione Toscana, Alessandra Nardini, non solo confermiamo ma ampliamo uno strumento capace di incrociare bene domande e offerte di lavoro, dando occupabilità quasi immediata. Grazie agli alti livelli di occupabilità raggiunti dagli studenti che li frequentano, i percorsi ITS hanno sempre suscitato interesse. Secondo il monitoraggio Indire 2020, l'83% dei diplomati ITS ha un lavoro a un anno dal diploma e nel 92% dei casi un'occupazione coerente con i percorsi di studio seguiti.